Salve, sono Mauro Ruschetti di Salomon, sono responsabile degli atleti, dei maestri, degli atleti giovani di tutta Italia, lavoro nella promozione e nel marketing di Amersport. Vi presento la nuova gamma di sci Salomon, partendo dall'equipe 2B Race, che è lo sci RC Rescarb GS, molto strutturato, molto bello, diviso in tre misure, 71, 185 e 178, è uno sci con una costruzione monoscocca e con la particolarità della powerline che è inserita all'interno di questo canale, con dei polimeri in gomma che aiutano al braccio dello sci a schiacciare giù lo sci, quindi a tenerlo sempre stabile e fisso sulla neve. E' uno sci molto manovrabile, essendo un Rescarb gigante, e può essere usato da sciatori di alto, medio, alto livello. Qui abbiamo l'Equipe 3B di Salomon, l'Equipe 3B Race, che è uno Slalom Carb, quindi per curve più strette, sempre con una struttura monoscocca, questa volta monoscocca in titanio doppia, cioè una dentro all'altra, con la particolarità della powerline inserita anch'essa all'interno dello sci, con i polimeri che vedete, queste viti tengono i polimeri in gomma per tenere più schiacciato lo sci, sci molto stabile, molto versatile, e quindi per sciatori anche questi di alto livello o di alto medio livello. Equipe 24 ore, lo sci 100% pista, che Salomon propone quest'anno, è già uno sci che ha riscorso molto successo nelle stagioni passate, diciamo che è uno sci sandwich col fianco dritto, però con due piani di titanio, uno superiore e uno inferiore, ha la powerline in estate nel centro dello sci, non con i polimeri per fissare lo sci, ma è avvolta nel caociu, in una gomma per poter assorbire le vibrazioni. È uno sci dedicato a una grandissima range di sciatori, ed è dedicato, si chiama appunto 24 ore, perché è uno sci che si può usare per tutto il giorno, non la notte chiaramente, ma non stanca perché aiuta lo sciatore a divertirsi. Endura XT800, lo sci leggermente rockerato di Salomon, che è lo sci dedicato a un 70% pista, 30% fuori pista, ha una struttura abbastanza importante, anche delle dimissioni importanti, infatti ha 8 sotto il piede, schiamo 800 appunto per l'80 mm sotto il piede, la particolarità che lo rende molto stabile su nevi dure in pista, ma molto versatile fuori pista, è questa powerline doppia, che si va a continuare sotto l'attacco, si distribuisce anche sulla coda. Questo fa sì che sia uno sci molto stabile, ma anche molto versatile. È uno sci dedicato a ottimi sciatori, a un livello direi medio-alto di sciatori, ma può far divertire sia in pista che su nevi sconnesse, in piste sconnesse, ma anche fuori pista. Origin Bamboo è lo sci per la donna, che Salomon colloca nel 70% pista, 30% fuori pista, anzi scusate, 100% pista, è uno sci molto facile, leggero, strutturato anche per la donna, spostato un po' più avanti, con l'attacco spostato un po' più avanti, struttura sempre monoscocca, ma con l'interno in legno, soprattutto la parte verso le lamine internamente, dove vedete questi due space frame, ha praticamente del bambù, che è un legno molto leggero, ma anche molto elastico, che dà una bella risposta. Sci di buon livello, alto livello per la donna. Salomon BBR 8.9, lo sci V-shape, chiamato anche lo squalo, come ha la forma, è uno dello sci già rockerato, con una punta molto importante davanti, e una coda molto più stretta. Questo è il V-shape, che permette di divertirsi sia in pista, sia fuori pista. È uno sci da pista, però considerato un 70% fuori pista, perché ha queste dimensioni, ma è uno sci prettamente da pista. Costruzione in sandwich, anche questo col fianco dritto, con due lamine di titanal, e ha la particolarità di far divertire lo sciatore che lo vuole usare, sia da medio a un alto livello.